Buon pomeriggio, ben trovati al consueto appuntamento pomeridiano con le notizie dal web della città, edizione culturale, vediamo che cosa ci riserva la serata, cominciamo con la musica, giunge la terza serata, la tre giorni dedicata a Luciano Ligabue, al palo olimpico Isozaki, il cantante sarà sul palco anche questa sera alle ore 21, presentando le canzoni dell'ultimo album, arrivederci mostro. Passiamo al cinema, The Ghost Writer, film di Roman Polanski di quest'anno, il cinema massimo lo ripropone questa sera alle ore 21, nella versione originale sottotitolata in italiano. Finiamo con la musica, Mito, Settembre, Musica, un appuntamento quest'oggi alle ore 17 al Politecnico di Torino, nell'aula maglia Giovanni Agnelli, si esibiscono i due chitarristi Gunther Lebing e Tom Powers, che eseguono brani di Lachemann, Pierre De Breville, George Migon, Manuel Maria Ponce e Carlos Chavez. Per quest'oggi è tutto, ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda, l'appuntamento come sempre domani intorno alle 17 circa, io vi auguro una buona serata.